Torna a sorridere la Coppucine Valdambra-Valdarno Sporting battendo Firenze 2 nel penultimo turno interno della stagione regolare di Serie D per 84 a 75. Prestazione comunque non impeccabile per i ragazzi allenati da Cochquaglia con gli ospiti avanti 7 a 3 dopo la prima palla a 2. Poi ecco la reazione del surpasso e il massimo vantaggio più 7 per i valdarnesi sul 20 a 13 che diviene 20 a 18 al quarto di gara. Il referen si ripete anche prima del riposo e i fiorentini scappano sul 35 a 30 per loro poi contro break e nuovo surpasso fino al 41 a 37 per la Coppucine. Non basta così però contro il fanalino di coda e a seguito dell'intervallo eccolo a lungo da piazzare. La Coppucine-Valdambra-Valdarno Sporting si prende la doppia cifra di vantaggio chiude 68 a 55 al minuto 30 e poi appunto in controllo 84 a 75 al quale si chiude il confronto tenendo in vita le speranze playoff almeno dal punto di vista matematico. Partita un po' sotto tono a livello mentale e a livello un po' fisico e si comincia a pagare il fine campionato le ultime giornate però questa era comunque una partita da intensità comunque gli avversari erano parecchio aggressivi mettendo le mani addosso e noi anche sui rimbalzi non siamo stati parecchio incisivi. Però l'importante sono portati questi due punti in casa e dalle prossime partite analizzeremo quello che oggi non abbiamo fatto ovvero un po' la mancanza della difesa, un po' dei rimbalzi e un po' come piace a noi un po' il sottotono ai minuti finali dei periodi. Non siamo stati brillantissimi stasera ma a questo punto della stagione non è neanche facile giocare partita in questo modo quando soprattutto gli altri non hanno più niente da chiedere al campionato c'è sempre il rischio di sottovalutare l'avversario di prendere un po' troppo alla leggera e poi la situazione si complica. Di buono c'è che siamo riusciti a vincere e interrompiamo un trend negativo che ormai andava avanti da troppe partite. Sicuramente non è la prestazione che dovevamo fare, adesso ne mancano ancora tre partite con squadre di livello leggermente un po' più superiore vediamo se almeno cambiando l'avversario riusciamo a tirar fuori qualcosa di meglio. Comunque due punti e andiamo. Le ultime sconfitte ci hanno tagliato fuori dai playoff ma anche la matematica ma l'impresa è sicuramente durissima visto i punti di distanza dagli ultimi posti utili per il postseason e sicuramente ha influito nella prestazione di questa sera con i giocatori che purtroppo erano un po' scarichi e questo però non deve essere una scusante, non doveva succedere quindi ecco di positivo solo la vittoria, muoviamo la Sifia, era tante settimane che non rivincevamo circa un mese, fine febbraio la vittoria a un Castelfiorentino e poi una serie di sconfitte.